Ehi, Scooby-Doo, perché non facciamo una foto? Io ho paura. La so, quel minotauro è fuori controllo, ma una foto va fatta. Ok. È giunto il momento della foto, Scooby. È giunto il momento di rispedirti negli... Ok, spiegatemi perché avete aiutato il minotauro a scappare. Siete ragazzi normali, non siete driadi o satiri o altra gente in maschera, vero? Non faremmo mai scappare un uovo travestito dal minotauro, proprio come... Noi siamo normali, solo un po' affamati e ignoranti. Scusate, ma sono impegnata. Ditemi subito la verità. Oh no, il lancio della verità. Quando ieri Scooby si è allontanato, ho svuotato la sua ciotola, scusa. Shaggy, ho usato il tuo spazzolino e non sui miei denti. Metto più burro da rachidi sul mio sandwich che sul tuo. Quasi il doppio. E io lecco il burro da rachidi fuori dal barattolo. Sono le verità più assurde che abbia mai sentito prima d'ora. Non siete una minaccia per nessuno, tranne che per voi stessi. Se mi permetti, Wonder Woman, siamo una squadra di risolutori, di misteri, e l'apparizione del minotauro è chiaramente un mistero che si deve risolveri. Non vedo nessun mistero, un minotauro è un minotauro. Appaiono, creano problemi all'umanità, e io li rispedisco al loro posto. Semplice. Wonder Woman, ci tengo a dirti chi sei tu e tutto ciò che rappresenti. Sei la mia eroina. Sono commossa, anche se ogni donna dovrebbe essere l'eroina di se stessa. Vero, ma il modo in cui combatti... Potete farlo anche voi. Non credete? Beh, ho imparato delle mosce nella lezione di yoga aerobica. Niente male. Ti suggerisco di tenere gli occhi aperti la prossima volta. Posso mostrarvi qualcosa io? Oh, ma certo, per favore. Sì, dammi i cinque, Wonder Woman. Scusami tanto, sono abituata con le amazzoni. Ah, che forza. Da dove iniziamo? Calci? L'ottacolo spazio? Davvero mitico. Mi spiace, gentiluomini, ma non posso allenarvi. È la legge di casa mia, di Temiskira. Posso insegnare solo le donne a combattere come guerriere. Che ne dici dei cani? Tu sei davvero molto carino, cagnolone peloso. Ma no, neanche hai cani. Ma no, neanche hai cani.